E perché mi succede questo? Oh, un nuovo paziente! Dottore, è qui? Non riesco a vederti! Ehi, fai attenzione! La sedia è proprio qui! E basta con queste mani! Che c'è che non va? C'è qualcosa che non va in questo bottone! Oh, questo non va bene, ma non preoccuparti! Vedi questa lettera? E questa? Aspetta, non riesco a vedere! Riesci a vedermi? No, è tutto sfocato! Oh, questo è un caso difficile! Ma ho un'idea! Ehi, ragata! Sono qui! Guarda! Uh, gocce per gli occhi! Proprio quello che ti serve! Lascia che te le applichi! Ecco qua! Beh, abbiamo finito! Oh, e ora il piano B! Questo dovrebbe essere sufficiente! Wow, mi sento molto meglio! Oh, riesco a vedere di nuovo! Grazie, dottoressa! Le sono così grate! E questo è per lei come ringraziamento! La mia chiave, prego! Oh, grazie! Sono un passo più vicino alla libertà! Troom trick! Oh, cos'è quello? Un vampiro! Che ci fa qui? Dottoressa, puoi aiutarmi! Oh, quindi sei un paziente! Certo! Che ti preoccupa? Questi! Oh, ora capisco! Posso toccarli? Shh! E significa no? Allora cerchiamo di sbarazzarcene! Non preoccuparti! Sono il miglior medico del circo! Sembrano robusti e i glowing! Sto arrivando! Ciao! Ho bisogno di te! Dobbiamo estrarre queste zanne! Grande! Ora... Prendi! Coramelle! Ui! E adesso sei soddisfatta? Sì, finalmente! Grazie, dottoressa! Oh! Aspetta, non piangere! Troverò due sostituti! Troom trick! Che figata! Grazie! Ciao, ciao! Ah! Chissà se funziona! Oh, che rumore! Wow! Che cos'è? Sei qui per vedere me? Dottoressa, faccia qualcosa per questo! Ma come è successo? Ok, ti aiuterò! Lasciala andare! Subito! Che testardo! Non vuoi farlo nel modo più semplice? Ok, allora proviamo con un trucco! Hai paura del solletico? Oh, smettila! Non posso andare in giro così! Non preoccuparti, ho tutto sotto controllo! Troom, troom trick! Ora possiamo lavorare con questo! Iniziamo l'intervento! Per prima cosa, applichiamo una crema lenitiva su tutto il rossore! Troom trick! Come nuovo! Provalo! Oh, così va meglio! Grazie, dottoressa! Lei è la migliore! Grazie, lo so! Cosa? Un'altra chiamata? Oh, pronto! Sto arrivando! Ciao, c'è qualcuno? Avete chiamato un medico? Oh, hai bisogno di aiuto? Aiuto i miei denti! Terribile! Non preoccuparti, ho con me un kit di emergenza! Contiene tutti gli strumenti utili! Wow! Ci puoi scommettere! E ora iniziamo! No, ti prego, non parlo! Ops, ho fatto confusione! Cominciamo dal cotone! Posso dare un'occhiata? Forte, mi piacciono! Sono molto contenta! Ehi, solo un secondo! Finalmente posso masticare di nuovo i miei dolci preferiti! Non è possibile! Non lo sai che fanno male ai denti! Ecco qua, meglio masticare una mela! Ma non è cioccolato! Beh, ok! A proposito, questa è per te! Un'altra! Grazie, sei fantastica! Ancora un po' e me ne andrò da qui! Troom trick! Sì! Sei qui per me? Ma? Mi sta facendo impazzire! È tutto il giorno che mi prude! Può aiutarmi, dottoressa? Vediamo che posso fare, siediti! Con attenzione! E ora esaminiamo la situazione! Pettiniamoci! Eccellente! Abbiamo un campione! Ora dobbiamo studiarlo! Vediamo cosa abbiamo qui! Oh no! Sono pulci! È terribile! Abbiamo bisogno di misure urgenti! Continua a prudere! Durerà poco, te lo giuro! Il barattolo è vuoto? Oh, questo è un problema! Ragazzi, vi prego! Mettete dei like a questo video! Così potrò curare il catnop! Ha davvero bisogno del vostro aiuto! Ragazzi, vi sopplico! Queste pulci mi fanno impazzire! Guardate, funziona! Mettete un like, così lo cureremo subito! Grazie mille! Ora si sentirà meglio! Oh, allora come va? Andiamo via da qui! Beh, spero di esserti stata d'aiuto! Oh, grazie dottoressa! Mi sento molto meglio! Miau! Tutto bene? Oh, la mia zampa! Alzati! Ma niente movimenti bruschi! Oh, ora facciamo una lastra! Non preoccuparti! Oh, è quello che temevo! La gamba è rotta! Dobbiamo operarla! La sterilità è la cosa più importante! E ora mettiamoci al lavoro! Facciamo una bella incisione! Ah, guarda quanti dolci! Dobbiamo eliminarli da questa dieta! Come ha fatto a mangiarli così? Bene! L'importante è il non danneggiare le arterie! Uh! E ora bisogna occuparci dell'osso! Per fortuna ha una frattura composta! Questo potrebbe aiutare! Puliamo! E ora iniziamo a cucire! Fai più attenzione la prossima volta! Dottoressa, sei bravissima! È il mio lavoro! E ora siediti! Uh! Andiamo! Buona fortuna! Sei qui per me? Dottoressa, è qui? Sì, da questa parte! Ho un problemino! Ciao! Sono qui! Non mi vede? Per favore, siediti! Allora, come posso aiutarti? Ho capito! Dammi solo un minuto! Risolverò il tuo problema! Troom trick! Forza! Dovrebbe funzionare! Diamo un'occhiata! Non sapevo avessi così tanti gemelli! Oh oh! Credo di aver esagerato! Dobbiamo rimuovere l'eccesso! Spero solo funzioni! Non vedo più niente! E adesso che dovrei fare? Un momento! Troom trick! Questi dovrebbero andare bene! Voilà! Prendi! Uh uh! Posso vedere di nuovo? Che giornata meravigliosa! Abbi cura di te! Dottoressa, ho bisogno del suo aiuto! Oh, che freddo! Vi lascio in pace! Non prendere il raffreddore! Dottoressa, non preoccuparti! Mi prenderò cura di te! Vieni sul divano! Ok, dottoressa! Siediti! Ora ti esaminerò! Wow! C'è un intero iceberg qui! Ci sarà un modo per sbarazzarsene? È difficile! Troom trick! Tieni duro! Abbiamo bisogno di qualcosa di più serio! Troom trick! Grande! Pronta? Oh, stiamo facendo progressi! Dottoressa, come vede sono ancora qui! Come faccio? Fammi pensare! Non farti prendere dal panico! Abbiamo bisogno di questi! Sì! Il cocktail è molto più gustoso così! Ci sono! Sciogliamo questi ghiacciai! Preparati! Farò un po' caldo! Credo in lei! Allora funziona! Wow! Incredibile! Ce l'ha fatta! Questo è per lei, dottoressa! Posso prenderla? Certo! Buona giornata! Uh! Anche a te! Ancora un po' e me ne andrò da qui! Ciao, ciao! Fatto! Le vitamine torneranno utili! Dottoressa, ciao! Ehi! Mi hai portato un osso! Che carino! Come posso aiutarti? La mia coda è sparita! Tutto qui! Penso di potercela fare! Tutto quello che ci serve è qui! Sei pronto? Sì! Eccellente! Questo siero ti ridarà la coda! Trum trick! Che ne dici? Questa non è la mia coda! Oh no! Ok! Beh, questa è di Caton Up! Ops! Non avevo controllato! Ed ecco la tua! Questa volta funzionerà di sicuro! Trum trum trick! La mia coda è tornata a posto! Grazie, dottoressa! Ora mi rimetto in pari! Sembra che vi stiate divertendo! E non dimenticare l'osso! Te lo porto subito! Che carino! Pronto? Cosa? Una chiamata d'emergenza? Sì, sono qui! Ciao, Cuff! Mu hai chiamato? Che c'è che non va? Qualcuno ha fatto uno scherzo e ora sembra una discarica! Aiutami! Non ce la faccio più! È terribile! Questo mi aiuterà! Spazzami via! Oh! Aspetta un attimo! Ah! Che odore! Che schifo! Non ho firmato per questo! Devo aiutarlo! Sarà più facile così una scopa non servirà! Serve qualcosa di più forte! E ora mettiamoci al lavoro! Sbarazziamoci della spazzatura! Wow! Rinfrescante! Cosa? Da dove viene questo piccione? È terribile! Beh, continuiamo! Guarda! Sei quasi pulito ancora un pochino! Wow! Come nuovo! Grazie, dottoressa! Sempre felice di aiutare! Allora, cos'è questo? Sembra che qualcuno sia andato in luna di miele! Ridammelo! La chiave! Ma dov'è? Vabbè, comunque grazie! Che schifo! Ciao! Un altro passo verso la libertà! Fantastico! Ne è rimasta solo una! Chissà di chi è! Potrebbe essere chiunque! Oh, ciao! Ciao, dottoressa! Wow! Sei così bella oggi! Oh! Così mi fai arrossire! Siediti! Che ti preoccupa? È incredibile! Hai sentito? Siediti, per favore! Non ho mai visto una donna così bella in vita mia! Sicuramente è sordo! Vedo delle bende sulle tue orecchie! Questa funzionerà! Siediti! Oh, sì! Certo! Fantastico! E ora ti esaminerò! Oh, strano! C'è qualcosa di incastrato! Wow! Come hai fatto ad entrare lì? Sei un mago? Wow! Stai bene? Quasi! Oh! Questi sono per te! Pommi! Da quando ti ho vista non riesco a pensare ad altro! Oh, è così carino! Cara, vuoi essere mia moglie? Lo voglio! Allora accetta questo anello come segno della mia fedeltà! Congratulazioni! Wow! Ti amo! Sono felice per loro! Qualcuno ci sta guardando! Ehi! Unisciti a noi! Oh! Dietro di te! E adesso che facciamo? Un attimo! Vi aiutiamo noi! Resistete! Non mi piace! Meglio loro che Cammo! Ottimo lavoro! Sei così figo! Grazie! Vogliamo diventare come te! È un'ottima idea! Perché no? Ho una lista per i bambini! Esattamente! E questo è per te, amico mio! Forte! Room trick! Ora possiamo iniziare il restyling! Tesoro! Sono sicura che tutto si sistemerà! Cominciamo dal trucco! Sono d'accordo! Allora andiamo! Guarda! Ho già preparato qualcosa! Ti piace il mio cofanetto di bellezza? È fantastico! E non è tutto! Ecco! Questo possiamo usarlo! E questo sarà sufficiente per iniziare! Non perdiamo tempo! Presto non ti riconoscerai più! I veri artisti del circo lo sanno che il trucco è importante per essere belli! Semplicemente fantastica! Grazie, Pommy! E il fardo! Sono proprio come te! E non è finita! Che c'è dietro questo orecchio? È un rossetto! Completiamo il look! Fantastico! Mi piace! È fantastico! Ragazzi, già ora dobbiamo andare! Noi non abbiamo bisogno di trucco, vero? Ma certo! Tutti gli artisti del circo ne hanno bisogno! Oh! Posso sempre fare uno spuntino! Ah no! Il trucco è più importante! Andrà bene! Sei sicuro di quello che fai? Oh sì! Ha! Questo sarà un vero capolavoro! Ehi, beh! Ora basta così! Oh wow! Forte! E tu che ne dubitavi? Troom trick! Il primo fatto! Ok! Dove possiamo trovare il maglione? Pensa! Ho un'idea! Aspettami qui! Spero che torni presto! Oh! Spero di non essere in ritardo! Caro pubblico! Ecco il nostro grande spettacolo di star! Pommy! Applausi per Jax! Vi sono mancato? Pommy! Andrà tutto bene! Ho uno spettacolo pronto! Chi sa rifarlo? Wow! Che figata! Grazie per aver guardato, signore e signori! Sei davvero forte! Ora tocca a me! È ora di mostrare i miei trucchetti! Ma dov'è? Sosteniamo Pommy! L'ho trovata! Oh! È un miracolo! Wow! E non è finita! Mi aiuterai? Certo! Troom trick! Eccoci qui! Oh! Oh! Vi è piaciuto il mio spettacolo? Jax! Sono un po' preoccupata! Ho tutto sotto controllo, cara! Ti ricordi cosa fare? Ehi! Puoi darmi una mano? Ma certo! Troom Troom Trick! È scomparsa! Non è un miracolo? Ops! No, no, no! Non puoi andartene! Tesoro, sbrigati! Ok! Non pensavo fosse così difficile! Ehi, piccola! Ciao! Che succede? Perché sei un'asta da bandiera? Oh, non preoccuparti! Ho una cosa per te! Guarda qua! Troom Trick! Vuoi una caramella? Sono tutte per te! Wow! Grazie! Figurati! Mangia! Mmm! Anche tu hai bisogno di un cappello! Non ci avevo pensato! Queste bandiere mi torneranno utili! Ottimo! Troom Troom Trick! Molto brillanti! Davvero carine! Mi aiuti, piccola? Ora ti faremo un bel cappello! Ritagliamo la forma delle corna dagli spazi vuoti! E ora ci serve un cerchietto! Pieghiamolo un po' di più! Io sono molto forte! E aggiungiamo un bel cerchietto! Ripassiamo il contorno con la pistola per la colla! Sì! Ora possiamo collegare tutte le parti! Così! Perfetto! E ora possiamo decorare! Incolliamo una fascia dorata lungo il cerchietto! Semplicemente bellissimo! Semplicemente bellissimo! Vuoi provarlo? È pronto! Wow! Sei forte! Oh! Provalo! Fantastico! Sì! Ma potrebbe essere più carino! Troom Troom Trick! Wow! Ora sono proprio come te! Sono felice che ti piaccia! Un'altra cosa! Pazza! E siamo a posto! Batti il 5! Jax non ha molta fretta! Fa così freddo qui! Jax! Ehi piccolo! Perché tremi? Ora lo sistemiamo! Questo colore ti starà benissimo! Grazie! Ora fa più caldo! Oh! Non ho ancora trovato un maglione per te! È ora di farlo! Lo cuciremo benissimo! Non aver paura! Vieni da me! Cosa? Cos'è questo? Pensavo avessi detto maglione! Vieni! Ho fatto quello che ho potuto! Oh! Guarda! Forse possiamo giocare? L'importante è colpire quella palla verde! Ottima idea! Proviamo! Concentrati! Avrai successo! Sì! Sono pronto! Allora ecco qua! Andiamo! Solo per il premio! Oh! Che emozione! Potrò farcela di sicuro! Non colpiamo l'arancione! Forza campione! Smettila! Stai rovinando tutto! Ups! Scusa! Ecco fatto! Ora ce la farò! Uh-uh! Ce l'ho fatta! Wow! Ottimo lavoro! Ce l'hai fatta! Evviva! Sì! Oh! Il tuo premio! Wow! Una macchina da cucire! Ecco cosa mancava! Uh-uh! Ora basta! Ho capito! Fantastico! Andiamo! Ora possiamo facilmente fare un maglione come il mio! Sì! Così è molto più comodo! Infiliamo l'ago e... Sì! Pronto! Provalo piccolo! Ti sta molto bene! Grazie! Ti sta benissimo ed è anche caldo! Batti il 5! Prove un trick! Un altro punto è completato! Sembra che sia qui! Uh! Dai! Non essere timida! Magari vuoi provare la nuova attrazione? Se stabilisci un record riceverai un premio! Uh! Sarebbe perfetto per la bambina! Devo comprarlo! Auguratemi buona fortuna ragazzi! Sono d'accordo! Posso provare? Certo! Prego! Grande! Oh! Arriva il martello! Wow! È pesante! Vorrei poter rimanere in piedi! Allora! Sì! Questo non è certo un record! Ha ha ha! Sei così divertente! Anche un bambino colpirebbe più forte! Smettila! Un attimo! Questa è la mia occasione! Più like e più potere! Ragazzi! Ho davvero bisogno del vostro aiuto! Mettete mi piace a questo video! Così potrò vincere il costume! Vi prego! Wow! Mi sento così forte! Ora di sicuro ce la farò! Siete davvero incredibili! E tron tron trick! Oh! È stato facile! Ho vinto! Wow! Che svolta! E il costume è tuo! Grazie! Ciao! Ehi! Ridammi quella gruccia! L'ho portata da casa! Che carino! Ciao tesoro! Ho una sorpresa per te! Ti starà benissimo! Oh! È bellissimo! È vero! Presto seguimi! Voglio farti vedere una cosa! Dammi il telefono! Ora guarda! Ma che stai facendo? Ora vedrai! Sei pronta? Troom trick! Ho preparato un case per te! Wow! Sei davvero un genio! Brava! Proprio come te! Uh! Campionato di bowling! In finale vediamo Michael Jackson! La folla trattiene il fiato e lanciamo! Piccolo! Lascia che ti aiuti! Funzionerà! Non deludermi! Ora lo colpirà sicuramente! Strike! Wow! È stato epico! Sei! Ho vinto il campionato! Hai visto? Che colpo! Stai bene? Michael! Ci siamo dimenticati delle orecchie! Dobbiamo sistemarle subito! Un attimo! Penso di poterle fare con quello che ho! Iniziamo! Ritagliamo prima la forma delle orecchie lunghe! Pronte! Grazie Barbici! Le orecchie sono pronte! Ora dobbiamo collegarle! Incogliamole lungo il bordo! Aggiungiamo del tessuto! Ora possiamo tagliarle! Fatto! Lo facciamo di nuovo? Allora, penso che vada bene! Troom, trum, tric! Ora questo è ciò che serve! Non resta che attaccarle al cerchietto! Wow! Sono bellissime! Michael le adorerà! Tesoro, vieni qui! Eccomi! Wow! Che belle! Grazie! Possiamo continuare? Sì, andiamo! Allora che ne pensi? Molto buono! Oh! Non volevo! Non fa niente! Però devi cambiare i pantaloncini! E il gelato! Non preoccuparti! Non è niente! Troveremo una soluzione! Che ne dici di una gonna? Fantastico! Aggiungiamo un po' di magia! Troom, tric! Ah! Non è quello che volevo! Ferma! Dobbiamo riprovare! Oh! Eccolo qui! Allora, puoi provarla? È perfetta! Sì, grazie, Pommy! È anche meglio del gelato! Che balletto! Andiamo, tesoro! Dove sarà Jax? Bene, bene, bene! Anch'io ho fame! Voglio fare uno spuntino! Tesoro, come stai? Ho tanta fame! Oh, certo! Cercherò qualcosa! Ecco, serviti pure! Fantastico, grazie! Quella tuta ti sta bene! Michael, potrebbe averne bisogno! Ed è anche sulla lista! È ora di trovare una tuta anche per te! Bisogna dare un'occhiata al camerino! Ok, lo farò da solo! Non sono più un bambino! Preparati alla magia! Troom, trick! Allora, ha funzionato! Posso dare un'occhiata? Ma chi hai fatto? Che razza di rodeo giurassico è questo? Questa non è una tuta! Riproviamo! Più in fretta! Non preoccuparti! Troom, trick! Posso entrare? Ha funzionato? La tuta è stupenda! E anche io! Grazie mille, davvero! Oh, e tu che eri preoccupato? Guarda, arriva la sorellina! Ciao, ragazzi! Oh, wow! Fammi vedere! Sei venuto benissimo! Sì, è vero! Sì, ora siamo i più fighi! Sì! È ora dello spettacolo! Forza, facciamo del nostro meglio! Con piacere! Andiamo! Ciao! Buona fortuna! Oh, chi sarà? Pronto? Sei qui! Elsa! Ciao, Pommy! Ho un regalo per te! Vuoi vederlo? E mi lo chiedi? Ma certo! Grazie! Prendilo! Che c'è qui dentro? Kane! Oh, non vi aspettavate di vedermi! Ho una sorpresa anche per te! Oh, no! Che c'è che non va in noi? Perché il tappeto è così grande? Ah, ah, ah! Sciocchi! Siete più piccole! Benvenute nella vostra nuova casa! Sembra che abbia rimpicciolito anche noi! Ciao, ciao! Guarda! C'è un'uscita! Forse possiamo scappare! Oh, no! È chiusa! Cos'è quello? Guarda! La porta si aprirà se costruiamo le nostre casette! Oh, ma come facciamo? È Kane! Questo è per voi! Per non farvi annoiare! Wow, eccole lì! E c'è qualcos'altro! Delle to-do list! Oh, ora ha senso! Buona fortuna! Sono sicura che possiamo farcela! Sì! Questi devono essere i materiali! Forte! I colori! Ritaglio le parti! E io le dipingo! Non ce ne staremo con le mani in mano! Andiamo! Da dove iniziamo? Dai muri! Fantastico! Dipingiamoli! Con una bomboletta spray sarà facile! La nostra casa sarà la più luminosa! Non è adorabile! E ecco a voi! Ta-da! Oh, niente male! Anch'io ho un'idea! Troom trick gelido! Vediamo un po'! E ora? Aspetta! Oh, la fama che succede! Non rovinare la bacchetta! Prendi questo! Oh, hai ragione! Così farò più in fretta! Va bene, iniziamo! Prendiamo la vernice e... A tutta velocità! Che colore delicato! Mi piace! Ottimo lavoro, Elsa! E il colore è bellissimo! Dobbiamo pensare a cosa fare dopo! Che ne dici del tetto? Lo farò sembrare un circo! Quale tessuto posso scegliere? E se li scegliessi entrambi? Esattamente! Ed ecco la macchina da cucire! Cuciamo insieme le toppe! Fatto! Wow, fantastico! È proprio il tendone di un circo! Non proprio! Serve anche qualche bandiera! Quante ce ne sono! Lascia che ti aiuti! Visto? Sarà molto più semplice così! Grazie mille! Ora appendiamo tutto e fissiamolo con una spillatrice! Incredibile! E ora le bandierine! Qui! Oh, mi piacciono! Elsa, guarda cosa ho trovato! Credo che ti tornerà utile! Fantastico! Possiamo ritagliare le parti che ci servono dalla schiuma! Ottimo! Troom troom trick! Sembra proprio del ghiaccio! E ora un altro paio! Sì, proprio quello che serviva! E adesso decoriamo il tetto! Ecco, spargiamolo di neve! Wow! È venuto meglio di quanto pensassi! Fantastico! Guarda, ho fatto un angelo! Proprio come un bambino! E ora giochiamo a palle di neve! Il tetto è pronto! Non mi piace questa porta! Ma la aggiusterò! Voilà! Disegniamo i contorni! Esatto! Uh! E ora rimuoviamo tutto ciò che non serve! Questo coltello ci aiuterà! Ma non tagliamoci! Allora, cosa abbiamo? Semplicemente perfetto! Ed ecco il mio rullo speciale! Dipingiamo la nostra cornice! Fatto! E' un'altra cosa! In che altro modo possiamo decorare la porta? Penso che questo andrà bene! Ottimo! Che bello! Uh! Me l'arro completamente dimenticata! Ehi, cappello! Ora sarà molto più semplice! E adesso, forza! Ti trasformerà in polvere! Nessuno sfuggirà la mia mazza! Uh! Sei un asso duro, eh! Wow! Che cos'è? Una bella ghirlanda! Uh! C'è anche il cashback! Alla bambina piacerà! Ciao, mamma! Questo è per te! Non è bellissimo? Oh, sì! Grazie, mamma! Indossiamolo! Uh! Wow! È d'oro! Che bello! Grazie, mamma! Non ti distrarrò! Andiamo alla casetta! Fantastico! E ora avremo anche delle belle tende! Sistemiamole! Ce l'ho fatta! Un altro passo fatto! Ottimo! Wow! È fantastico! Lo adoro! È bellissimo! Oh! Ne ho conservato un po' anche per te! Oh! Wow! Grazie! Buona fortuna! Iniziamo segnando i contorni! Fatto! E ora passiamo al taglio! Il ghiacciolo mi aiuterà! Oh! Non è facile come pensavo! Olaf! Cos'è quello? Oh! Diciamo solo un piccolo aiutino! Grazie! Ora però ci penso io! Wow! È decisamente meglio del ghiaccio! Sono certo che te la caverai! Per favore non interferire! Fantastico! Troom trick! Wow! Proprio come nel palazzo di ghiaccio! E ora proviamolo! Oh! Non cadermi addosso! Stai bene? Forse hai bisogno di colla! Prendi questa! Grazie, Pommy! Che farei senza di te? Oh! Non c'è più colla! Oh! Lo so! Congeliamolo! Troom! Cosa? La mia magia è sparita! Lo sapevo! Ragazzi, per favore aiutatemi! Mettete un like a questo video! Così i miei poteri torneranno! Elsa ha davvero bisogno del vostro aiuto! Bastano un paio di like e tutto si risolverà! Oh sì! Lo sento! Posso creare un'era glaciale! Ora non cadrà più di sicuro! Grazie, Pommy! A proposito, non è che ti è rimasta qualche tenda? Mi dispiace, Elsa, ma possiamo farne di nuove! Penso che questa potrà andare bene! Ecco qua! Grande! Stai indietro! Aspetta! E ora trasformiamola in un bel sipario! E fatto! Wow! Pommy, tu sei un genio! Ora le nostre porte gelate sono pronte! Mi sono perso qualcosa! Il re sta lasciandole di picio! Guarda cosa ho trovato! Porte! Prendilo! Wow! Ok! Giochiamo! Guardami! Wow! Sa cosa fare! Guarda! Perfetto! Aspetta, ho un'idea! Esattamente! Possiamo ricavarne un'ottima cornice! Spero che funzioni! Avremo bisogno di una pistola per la colla e... Allora, ha funzionato? Troom, troom, trick! Decoriamo la cornice! Uh, niente male! E adesso prendiamo le lenti! Uh-huh! Ora, troom, trick! Ecco fatto! L'acchio della finestra è pronto! Forte, no? Possiamo spuntare un'altra voce! Elsa, chiudi la finestra! Fa freddo! Sì, hai ragione! Anche noi abbiamo bisogno della finestra! Uh, perfetto! Oh, fa freddo! Oh, ho un'idea! Possiamo anche decorarla con la neve! Sarà bellissima! Un po' qui e un po' qui! Non c'è un limite alla perfezione! Disegniamo dei motivi di ghiaccio sul vetro! Spero che funzioni! È così bello! Uh, ci stiamo avvicinando al nostro obiettivo! Qual è il prossimo passo? Uh, forte! Oh, cos'è questo? Una palla? È vostra, ragazze? Oh, che divertimento! Ehi, smettila! Ah, queste ragazze! Un attimo, ho un'idea! Ehi, ragazze, lanciatela qui! Hai sentito la mamma? Forza, prendi! Sì, di più! Ok, prendi! Uh, proprio così facile! Vai, Pommi, puoi farcela! Allora, ti piace la nostra casetta? Ora sembra una parete da arrampicata! Troom trick! Ora andrà ancora meglio! Il muro è pronto! Ottimo lavoro! Devo recuperare! Pieghiamo la carta più volte e tagliamola! E ora abbiamo dei meravigliosi fiocchi di neve! Tracciamo con attenzione uno stencil! Niente male! Ehi, Pommi! Puoi aiutarmi? Certo, ragazza! Fatti da parte! Non avevo dubbi! Ti colpirò sicuramente! Vai, Pommi! Caglià! Ha funzionato! È stato bellissimo! E tu hai fatto uno splendido lavoro! Wow, anche tu sei forte! Altro? Con piacere! Potrei farlo tutto il giorno! Sono così tanti! Troom trick! Fiocchi di neve ninja! Wow, un lavoro eccellente! Grazie! Non ce l'avrei mai fatta senza di te! Spuntiamo il muro! Wow! E ora, la banderuola! Oh, non riesco a raggiungerlo! Sono così vicino! Oh, devo aiutare Pommi! Troom, trum, trick! Che è stato? Grazie, Elsa! Nessun problema! Quando ti serve, sono qui! Ora posso fare qualsiasi cosa! E... Fatto! Grazie, ragazza! Mi ha aiutato molto! Non c'è di che! Posso unirmi a voi? Oh, sei pronto anche tu! Ho scalato l'Averest! Sei proprio un tipo estremo! Oh, sembra che le ragazze abbiano una sorpresa! Mamma, guarda, abbiamo fatto l'insegna! Anch'io! E brave ragazze! Questa la mettiamo davanti casa! Questa sarà la decorazione principale! Mi ci sono impegnata tanto! Tesoro, hai davvero talento! Andiamo? Oh, sono la prima! Adorabile! Piccola e fantastica! Guarda, manca ancora qualcosa! Serve il recinto! Hai ragione, dobbiamo fare una recinzione! Hmm, ho un'idea! È ora di giocare seriamente! Ti aiuto io! Oh, cos'è questo rumore? Che stanno combinando? Fate silenzio! Ehi, siete stanche della vostra vita? Oh no, ora ci prenderà! Dov'è l'altra? Siete nei guai! E se vorrai rivedere la bambina, allora dovrà diventare Pommy! Ehi, fammi uscire da qui! Mi senti? Che cattivo! Ehi, fammi uscire! Ehi! Oh, ora vuoi dare ordini? Va bene, allora troverò un modo! È chiusa! Aspetta, cos'è questo? Credo di aver capito! Devo diventare Pommy! Non voglio che ti annoi! Ecco, prendi questa lista! Ok, allora proviamo! Bene! Ho un'idea! Troom trick! Ed ecco che arriva la neve! Prendi questa! Ma che significa? Wow! Olaf! Ciao Elsa! Sono un mago! Troom trick! Wow! Sei un vero mago! Che ci sarà qui dentro? Apiamolo! Tutto quello che ti serve per pulirti la faccia! Aspetta, prima facciamo un calco! Troom trick! E ora iniziamo! Rimuoviamo i punti neri e facciamo le sopracciglia! E ora le labbra! Proviamolo! Wow! Ora va molto meglio! Bene, il primo punto è completato! E adesso vediamo che c'è dopo! Una palla di neve! Che strano! Oh, ci sono! Aspiriamo! Un like! Ragazzi, mettete un mi piace a questo video per sbloccare la prossima sfida! Wow! Ottimo lavoro! E ora facciamo gli occhi! Scegliamo un colore dalla tavolozza! Il rosso andrà bene! Oh, niente male! Ma potrebbe migliorare! Ora sono perfetti! Proprio come Pommi! Sono pronta per il prossimo compito! Dov'è la palla di neve? Troom trick! Oh, trucco! Penso di potercela fare! Vediamo cosa ho qui! Oh no! È tutto congelato! E adesso che faccio? Deve esserci qualcosa di utile qui! Wow! Una beauty box che vale mille punti! Va bene per me! Ma wow! È così pesante! Oh, che c'è che non va? Fatti da parte! Wow! Ottimo lavoro! Ha funzionato! Ora posso farlo anch'io! Grazie Olaf! Iniziamo con le liner! Wow! Che bello! E ora un po' di liner per definire le ciglia! E ora a far del labbra! Lo adoro! Continuiamo! Prossimo compito! Acconciatura! Ehi, che stai facendo? Mi fai male! Oh, mi dispiace tanto! Stai bene? Sono stanco! Ma che è stato? Dov'è la cella? Oh, non ha funzionato! Resta qui! Ehi! Chi ha spento la luce? È un cilindro magico! Sono certo che ti aiuterà con i capelli! Ok! Sei pronta? Tra un trick! Allora? Wow! Olaf, sei davvero un mago! E questo è per te! Wow! Sono una vera bellezza! Huggy! È ora di andare a trovare i nostri amici! Ehi, tu chi sei? Sono Huggy! Piacere di conoscerti! Ehi, cos'è quello? È il tuo obiettivo, Riccordi! Avanti, occupatene! Oh! Ti prego, non farlo! È troppo tardi! Oh! Oh no! Ho sbagliato! Preso! E ora non farai più del male Elsa, hai capito? Smettila, Olaf! Per favore, non farlo! Gli farai male! Sei molto fortunato! Grazie, sei il mio eroe! E tu? Oh wow! Che c'è? Beh, non ditelo a nessuno! Oh, questi! Posso usarli! Ma per fare cosa? Ma certo! Ho ancora bisogno del costume! Usiamo il cappello! Troom, troom, trick! Il costume è pronto! Ed è bellissimo! E mi sta bene! Oh, c'è dell'altro! Un bel blaster! Questi sono guanti! Oh, potrei usarli! Cos'è quella? Sembra una botola! Mi chiedo cosa ci sia dentro! Questa è la mia occasione per uscire! Sono pronta! Avrò bisogno dei manicotti per le braccia! Oh, e ora un'immersione totale! Ma come osi! Non pensarci proprio! Ehi, è proprio quello che mi mancava! Bene! Proviamo lo stesso! Non così in fretta! Questo ti terrà buona! Wow! Ma che cos'è? Oh no! Ora non uscirò mai più! Ah ah ah! E questo ti piace? Oh, ma che cos'è? Le mie mani sono incollate! Devo liberarmene subito! Oh wow! Guanti! Oh no! Non la passerai, Lisha! Stai iniziando ad assomigliare sempre di più a Pomme! Wow! Ne è rimasto un po'! Attenta! Ecco una bomba! Prendila! Ehi! Questa non mi serve! Che vuol dire? Devi tenerla! Avanti tieni! Oh no! Sta per esplodere! Devo nascondermi in fretta! Questo non funziona! Sì, devo nascondermi! Che spavento! Non aver paura! Ti salverò io! No! Come farai? I ragazzi fighi hanno sempre una soluzione! Wow! È stata forte! E ora per loro il gioco è finito! Oh no! Povero Olaf! Sei vivo! Certo! Non era niente! Olaf, sei il mio eroe! Non spaventarmi mai più in questo modo! E tu, Kane, avrai quello che ti meriti! Oh! Il mio occhio! Ah ah ah! Ti sta bene! Questa è la mia vendetta! Ok, ora siete nei guai! Non riesco a vedere nulla! Dove sono le gocce? Molto meglio! Uno spuntino mi aiuterà a superare lo stress! Kane, vieni da me! Troom, trum, trick! Fantastico! Le mie ciambelle preferite! Che bello spuntino! Qualcosa si è incastrato! Ora finalmente posso guardare la tv! Wow! Che cos'è? Ora basta! Ehi! Ho qualcosa che piacerà a tutti! La corona di pommi! È nella lista! Sbrigate a chiamare! Ne è rimasta solo una! Devo chiamare! Pronto, mi senti? Chi è che parla? Beccati questo! Che cattiveria! Aspetta solo che ti raggiunga! E se li combinassi? Uh! Ah ah ah! Ehi, come sei arrivata qui? Eccola! Non toccarla! Ora sei nei guai! E calmati! Vieni qui! Solo un minuto! Siamo di nuovo qui con voi! Ehi, non rilassarti troppo! Così impari a prendermi in giro! Oh, la corona è mia! Che bella! È ora di uscire! Wow, ce l'ho fatta! E quello cos'è? Ho! C'è b Kingston! H Ciao!